Buongiorno buonasera a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati sul canale questo è un nuovo episodio della serie di minecraftita quest'oggi andremo sotto vostro consiglio ad esplorare il void e proviamo a trovare l'elytra comunque ragazzi vi voglio far vedere come ho modificato ancora il magazzino è molto più carino ho messo tutte queste foglie di abete sempre botole qua ho messo tutte queste pietre qua di fianco ho messo queste pietre andesite si andesite mi sembra comunque andando sotto ho aggiunto queste lanterne queste cose qua per chiudere la porta ho fatto tutto scortecciato ho messo queste lanterne e qua sotto come potete vedere anche se non è che si vede tantissimo ho fatto una specie di giardinetto di qua ho fatto un altro diciamo piazzetta e di qua ho fatto la prima stanza anche se non sono sicuro di lasciarla così l'ho fatta giusto per avere un modello e magari la metterò di qua o di qua perché qua voglio fare una stanza un pochettino più diciamo circolare e già mi immagino qua una mappa grande del nostro mondo messa con la 10 frame però allora devo cercare nel senso di non perdere tempo perché in questo video come vi ho detto voglio andare a cercare le fortezze del land ho già tutto, non dico pronto, non è vero però mi sono tolto tutte le cose che ho utilizzato per fare il magazzino ragazzi non so perché ma in questi giorni il computer sta andando male infatti per editare ci metto tanto perché si blocca ogni tanto il programma e non capisco perché e certe volte mi lagga anche la registrazione infatti come potete vedere molte volte la maggior parte del tempo la voce è desincronizzata con l'audio però vedrò come fare intanto ragazzi l'unica cosa che dobbiamo prendere secondo me sono delle frecce almeno una e poi tanti blocchi prendiamo la terra e siamo a posto ok prenderei anche qui delle enderper perfetto delle frecce bene da mangiare ancora perché mettiamo che finiamo le cose da mangiare quindi prendiamo un altro stack e poi credo che possiamo andare ho portato anche dell'acqua giusto per essere sicuri di non morire se spera comunque allora vado veloce nel land e ci vediamo appena non laggo ok ragazzi eccoci qua dobbiamo andare nel void e tra l'altro devo anche prendere l'uovo non oggi devo un po' vedermi bene come si fa però intanto andiamo nel void non guardiamo nessun enderman per favore e saliamo qui prendiamo un po' di terra ne ho pesato un bel po' ma che ho ma mi ha preso ok sto mettendo la terra mi ha preso la terra l'enderman farò una scala così perché non voglio failare c'è quell'enderman che mi ha preso quel pezzo di terra stavo provando a salire sono sicuro che in questo episodio mi morirà il mignolo facciamo anche una mini piattaforma per le prossime volte e ci siamo è la prima volta che vado nel void basta lanciare un enderpearl per chi non lo sa e andiamo ragazzi mi ha spawnato sopra uno di questi va bene a casissimo ok allora ho diminuito un po' i chunk c'è un casino però va bene per diminuire il lag ok scendiamo senza morire magari lo sapevo cerchiamo di non morire già dagli enderman magari prendiamo uno di questi giusto perché voglio averne non dobbiamo guardare gli enderman però devo cercare la fortezza in qualche modo quindi ragazzi ci vediamo appena l'ho trovata e ci metterò troppo secondo me ok ragazzi ci sono dopo un casino però va bene eccolo laggiù è gigantesca intanto e c'è anche la nave c'è la prima cosa che ho trovato cioè veramente la prima volta che cerco qualcosa lo trovo perfetto cioè non so quanto sia perfetto perché io non so minimamente come affrontarla cioè so un minimo però diciamo che non sono molto pratico in queste cose mi sta morendo il mignolo perché sto da un'ora a cliccare il tasto shift ve lo dico già vabbè andiamo avanti da quello che ho visto proviamo intanto è gigantesco ragazzi ma quanto cavolo è grosso ok devo ancora fare un paio di ponti ma ci siamo non devo morire perché con tutto quello che ho se muoio sono perso veramente ok utilizziamo anche questa terra a caso e ci siamo siamo molto vicini non ho mai affrontato neanche i shulker box quindi ragazzi non temi niente perché sono veramente una pippa prenderò anche un bel po' di blocchi col nostro carissimo piccone ok allora oltre ai shulker ci sono anche gli enderman e sta cosa non mi piace eccoli da giù cerchiamo di spararli anche da lontano magari li becco ok dai ne punto prima uno e cerco di ucciderli così ok una volta ci ha dato pure la cosa la la shulker shell ok proviamo anche l'altro no non venire pure te ok li abbiamo fatti vediamo solo una però ci sta un casino di cose ci hanno dato oppure l'avanzamento va bene andiamo avanti poi i ragazzi prenderò tutti i blocchi state tranquilli però lo farò dopo che qua c'è il parkour laggiù c'è il carissimo shulker box ok ucciso perfetto mai stato così semplice ora parkour questo è easy io ragazzi non sono bravo nei parkour magari qualcuno di voi lo sa almeno su minecraft andiamo su oddio no 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 ci ha provato a beccare quello lì no no ci ha beccato fanno un casino di danno e questa cosa non mi piace no non ci devono beccare non ci devono beccare non so perché stanno ancora sparando non capisco da dove mi vedono vabbè andiamo giù vabbè andiamo in questo qua su no stavo per cadere ok proviamo ad andare giù ragazzi e proviamo a beccare questi qua ok quello è morto dobbiamo uccidere quello laggiù quello laggiù ok morto pure quello qua ce n'è uno dai apriti bravo dai apriti di nuovo ok morto pure quello non so dove siano gli altri quindi prima killiamo tutti questi e poi andiamo su ok non so dove sia questo vabbè torniamo giù tanto qua non c'è niente ok torniamo giù e andiamo di qua proviamo a pusharlo ok ucciso no 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 ragazzi non dobbiamo farci colpire ok uno è lì ok killato c'è dato pure un shulker box un shulker shell scusatemi lì c'è una cassa lì ce n'è uno lo vedo mangiamo no però non ci devono più toccare quanti ok dai apriti ok killato pure questo l'altro è lassù ok perfetto c'è un botto di casino non vedo l'altro ce ne sento ancora una oh c'è pure una un ender chest non lo sapevo però non posso prenderla perchè non ho si hip touch vabbè ma tanto fa lo stesso allora non ne vedo altri qua qua come faccio andare lì là così si allora shulker shell perfetto ne abbiamo tre adesso che qua non c'è niente e qua una pala perfetto cioè perfetto ci sta ok ora ne abbiamo quattro possiamo già fare due shulker box si ok andiamo ancora su ragazzi ci metterò un'ora a fare tutta sta roba non so quanto verrà lungo sto video provo a tagliare un po' questi qua mi vomitano il tutto quanti sono ma raga qua sono un botto proviamo a uccidere quello ok questo pure è già morto ma alcuni muoiono in un colpo non capisco ok no quello si è no proviamo ad andare qua proviamo ad andare qua ok siamo coperti dobbiamo provare ok non farci beccare questi apriti non c'è beccato ok quello è morto non so quanti rimancano ancora non credo tanti non sta andando male no e mo si che sta andando male però c'è un parkour che dobbiamo fare però non lo faccio vado con la terra andiamo a recuperare gli shulker shell che sono importantissimi saliamo di qua qua c'è qualcuno non sembra ok qua cosa c'è smite unbreaking questo non lo prendo oh tre diamanti pazzesco questo commending raga i diamond boots come frost walker quattro smeraldi tre di oro anche se tre di oro vabbè non è che ci cambiano la vita però qua non c'è niente ok questo lo lascio qui tanto acqua finiti però non è che mi serva tanto qua sopra c'è qualcuno lì non sembra che qua sopra non c'è niente eh lì però mi stanno sparando ok cerchiamo di scendere giù senza morire e andiamo dall'altra parte da questa parte o da questa andiamo da questa che piccola forse qua ci siamo già andati non mi ricordo ok e andiamo di qua ok questo qua chiudiamo prima cerchiamo di mandare via tutte ste robe perché sennò stiamo qua per un'ora cerchiamo di chiedere quello ok chi lato quello bene un altro qua ci sono altre ceste sì bene voglio proprio vedere se l'enderceste si toglie così vediamo eh sì infatti ci da 8 di ossidiana qua c'è del ferro devo prendere qualcosa con sigtach però vabbè magari se ho voglia ma non credo faccio avanti indietro vabbè facciamo la stessa cosa di qua abbiamo un bel po' di terra meno male che l'ho portata tanta ragazzi non vedo l'ora di prendere l'elitra abbiamo un casino di shulkershell no 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 oddio ragazzi mezzo cuore mezzo cuore allora prendiamo tutta la vita piano piano così così piano piano ci facciamo una bella scaletta tanto quello lì è già morto ci mangiamo un po' di patate tanto abbiamo un bel po' di blocchi nessuno ci mette fretta tranne mia mamma che sta preparando cena però dettagli e qua non c'è nulla la carissima nave non so dove sia ok scendiamo giù di qua e prendiamo quest'altra torre no ok ho ucciso questo non l'avevo visto raga qua chiudiamo perché so già che faccio un fail ok dobbiamo subito uccidere questo qua davanti ok bene prendiamo questa shulkershell ok l'altro è lassù vero si ok andiamo avanti così con la nostra grandissima tecnica ne mettiamo anche uno qua in mezzo perché so già che faccio un fail ok è morto bene sto arco è potentissimo meno male che l'ho fatto così potente ok servirebbe anche mending però tra l'altro ci mettiamo questi qua qui non c'è nulla ok abbiamo tolto tutto ci manca solo la nave quindi andiamo laggiù abbiamo tolto tutti gli shulker dobbiamo stare attenti a quelli della nave perché se no addios qua veramente ce ne andiamo abbiamo fatto un po' di esperienza anche e questo mi piace a proposito di esperienza nei prossimi video dovrò andare a fare la farm di enderman allora dov'è che dobbiamo andare per la nave la nave è di là quindi basta che scendiamo di qua senza morire tanto qua è abbastanza easy mi sono fatto la scaletta allora per la nave di là ok fortuna che ho le enderpearl che mi potrebbero salvare e ragazzi suggeritemi intanto qualche costruzione da fare con questi blocchi allora facciamo così facciamo così e cerchiamo di non morire allora sicuramente ci saranno dei shulker che ci spareranno quindi cerchiamo di prenderli da qua giù quindi oh ho già preso ok ucciso la ce n'è un altro ok perfetto ucciso sembrano solo quei due ragazzi ho troppa paura di fare così però vabbè dobbiamo fare così stavo per non tenere shift e ho molta paura ok ci siamo uff siamo qua allora prendiamo questi shulker e entriamo così perché non me ne frega ok questo ci prendiamo instant yield perfetto questo ce lo prendiamo l'abbiamo preso sì andiamo giù e qua c'è l'elitra signori eh ma qua c'è anche un coso di questi eh ma so stupido ok ucciso perfetto mi sono fatto prendere dal panico e ok molto bene qua prendiamo non c'è niente c'ha mandi in questo vabbè ma sono sempre di iron prendiamo smeraldi oro diamanti ma un casino di diamanti sei diamanti abbiamo trovato questo protection 3 vabbè ce lo prendiamo prendiamo anche questo e finalmente ragazzi l'elitra sky's the limit ci prepariamo con l'arco perché ho molta paura di qualche shulker qua ah e dobbiamo anche prendere la testa del drago ora ci andiamo qua non dovrebbe esserci nulla ma andiamo a vedere ok non uso ancora l'elitra perché voglio usarla con unbreaking e nei prossimi video dovremo andare a trovare mending sicuramente perché la prima cosa a cui metto mending è questo ok quindi andiamo di qua ci facciamo una bella piattaforma spero non serva silk touch anzi ragazzi per essere sicuri me lo vado a cercare ok allora l'ho visto e sembra di no quindi proviamo a prenderlo eccolo signori buttiamo qualcosa tipo 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 item frame e abbiamo la testa di drago signori mamma mia quindi ragazzi allora per oggi credo sia tutto abbiamo esplorato un'intera fortezza dell'end sperando che non ci siano altri shulker e niente ragazzi io ora in off camera dovrò prendermi un bel po' di blocchi non la toglierò tutta perché se no ci metto un anno però almeno tipo qualche torre la tolgo no tipo una tipo questa qua facciamo che questa qua la tolgo e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un bel mi piace commentate con quello che volete vedere nei prossimi video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuna novità e da assinore è tutto ciao iscrivetevi al canale